devo dirti io in questa generazione io di solito anche se non compro la console da quando gioco ai video giochi mi faccio prestare le console per il gusto di provare le esclusive che stavano su quelle altre console per esempio Mega Drive mi sono sparato Sonic e gli Streets of Rage che ne so non mi ricordo un sacco di titoli sega che non potevo permettermi perché io c'avevo il NES e il NES lo prestai all'amico mio mi scambiavo le console e devo dire la verità che in il periodo PS4 mio cognato l'ha avuta la PS4 me li ha fatti provare i giochi non mi è mai venuta la voglia me ne sono andati tutti subito a noia le esclusive oppure c'era quel particolare che mi ha fatto girare i coglioni che ho detto no questo gioco non lo gioco che cazzo gioca a fare un gioco del genere quindi io effettivamente in questa generazione al contrario degli api siamo Xbox cioè Xbox me la sono sequestrato un anno l'amico mio era presa la 360 e ho detto dammi l'Xbox e ce l'hai buttata me la sono ottenuta una vita solo forza motosport non mi piaceva a me però per il resto tutti i giochi io me li sono divorati me li sono ottenuti me li sono rigiocati fable due volte l'ho giocato che per me giocare due volte un gioco è tantissimo fare due run non le faccio mai effettivamente in questa generazione io non ho mai chiesto al mio cognato di prestarmi la PS4 mi facevo provare i giochi però dicevo boh cioè days gone vedevo quella cazzo di moto dei giochi del 1600 manco road rage era così squalida la guidabilità di un veicolo e road rage o road rush non mi ricordo e così è andata a finire cioè nel senso questa generazione non me la sono mai fatto prestare la console effettivamente mo che ci penso nemmeno per i giochi di david cage mi hanno così colpito cioè nel senso questa generazione mi sono passati tutti così giochi sony cioè non ho avuto quel motivo per farmi prestare la console perché mi cascavano i coglioni mi sono sempre cascati i coglioni nelle prime ore uno dice il gioco non vale le prime ore no invece tutto vale nelle prime ore anche un brano musicale nei primi minuti ti deve prendere se non ti azzeccali alla 17 alla diciassettesima battuta tu il brano musicale lo schippi su una playlist e così film tutto cioè devi prendere all'inizio la roba non ti prende all'inizio e infatti non mi hanno mai preso all'inizio nessun gioco io ho giocato della stovassa semplicemente perché non c'avevo che cazzo fare avevo giocato tutti la mia ragazza mi aveva prestato perché ero senza lavoro stavo a ne lavorava ma ha prestato la ps3 allora io ci ho giocato i giochi me li sono giocati tutti della stovassa me lo sono giocato per inerzia perché non sapevo più che cazzo giocare me lo sono giocato il primo però è un gioco che a me della stovassa il primo è un po come che cos'era rose come queen sai quei giochi playstation che mi hanno divertito però non è che direi a tutti giocate rose come queen è un capolavoro è un gioco che ti passa così basta cioè non stai a dire bello mi sono divertito no gioco da sta cosa invece si è creato tutto questo impero intorno della stovassa che mi ha fatto sempre ridere perché è esagerato è un gioco è un gioco non è questa grande cosa anche la storia della stovassa sarà che ho visto tanti film o quant'altro è piena di cliché cioè non è che io io sono fan di do son click e gossip girl non so quante volte li ho visti do son click e gossip girl sono un mio guilty pleasure però non sto a dire a tutti dovete vedere il gossip girl che c'è una trama pazzesca con colpi di scena dietro l'altro cioè non sto a dire un capolavoro gossip girl o do son click nonostante ci sono un sacco di colpi di scena anche cruel intention non so se li conosci tra i film che io vado pazzo è un altro guilty pleasure mio la trilogia di cruel intention però non sono robe che uno dice capolavori assoluti dovete vederli per forza se non capite un cazzo ma mi ha fatto sempre ridere la storia della stovassa per sto motivo perché per me è un gioco che l'ho giocato l'ho finito e via basta cioè finiva là qui invece questa generazione ps4 io nessun gioco li ho provati tutti tranne god of war la god of war l'ho solo visto giocare ma non me nemmeno intrigato poi un'altra cosa che odiato di sony che prima o poi ci vorrò fare un video caruccio che sfotto che i giochi sono tutti seriosi quelli sono in sta generazione proprio le palle a terra cioè nessun gioco fantastico onirico strano fuori contesto cioè persino knack knack cazzo knack in un mondo realistico knack divinità egizie in un parco giochi dove stanno gli umani è una cosa seria in un contesto realistico cioè persino knack sono riusciti a fare a sony sono riusciti a fare un contesto realistico palloso non lo so che cazzo ha avuto in questa generazione sony ci ha fatto tutti sti giochi pallosi cioè nel senso da vita reale con contesti reali pseudo realistici basati più su sulla storia cioè pure knack c'è una storia strappalacrime non mi ricordo cioè knack knack che è un platform non lo so eh sì questa generazione io non so della sua sparte 2 io lo voglio provare perché però mi fido un po di voi se dite ste cose però boh cioè io non riesco a capire come si fa anni e anni di videogame a essersi dimenticati come si fa la progressione del divertimento cioè io all'università nel percorso di game design ho studiato ci sono tutte le regole della progressione del divertimento c'è tutto un meccanismo e chi gioca pure a dungeon and dragons ai giochi da tavola c'è un gioco da tavola perché divertente perché c'è una progressione del divertimento ci sono dalle regole il gioco più va avanti più avanza aggiunge nuove cose più diventa complesso cioè i giochi sono progressione del divertimento invece sui giochi sony sembra che se lo siano dimenticati sta progressione del divertimento ma infatti io vedo per lo più tutti questi stronzi che passano il tempo a guardare i paesaggi non ho ancora capito che c'è di divertente a guardare un paesaggio in un cazzo di videogioco cioè fosse vr potrei capire ma non stanno giocando col cazzo del vr cioè mi guardo un paesaggio che cazzo mi dice a me un paesaggio capolavoro cioè leggo sempre questo cazzo di foto col paesaggio dei giochi sony capolavoro cioè non lo capirò mai sto significato cioè a sto punto io domani vediamo cos'era moto racer me ne vado sul salgo al bordo della pista moto racer prima che mi esplode mi facciano saltare in aria e faccio capolavoro non l'ho mai capito il senso dei giochi sony in questa generazione io sinceramente o sono boomer totale ma non ho capito proprio i giochi sony è tutto dirò detto che non mi sono fatto io mi faccio sempre prestare le console perché voglio giocare tutti i giochi sono una passione di videogame quindi non c'è la console primaria o quant'altro c'è solo una questione monetaria dietro a non acquistare la console però questa volta non me la sono fatta prestare ps4 non è mai entrata in casa mia mai non c'è mai stato un motivo per farla entrare ciao 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 ciao